Il nostro combattimento è tutt'altro che terminato Attivo la carta trappola Ritorno del caos Ti blocca all'istante il tuo attacco Non può essere Ora scarto una carta E attivo una magia direttamente dal cimitero Scelgo di attivare Alza rango magico a forza di Varia E adesso io sovrappongo Nettia Oscura di Rango 2 Con questo mostro Ricostruisco la rete di sovrapposizioni Vai evoluzione caos ex Affari numero caos 96 Tempesta Oscura